ciao a tutti ragazzi eccoci qui siamo sulla cima del monte terminillo nel lazio ancora lì adesso ci facciamo un bel long range speriamo di non lasciare tutto là sopra allora che usiamo che usiamo che usiamo tu no tu torna a casa piccoletto questo è il quad predestinato ragazzi mi raccomando torna a casa no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci siamo riusciti, è stato un long range critico, ci stanno parecchie zone d'ombra per il segnale video. Appena ho scavallato questa piccola cima che vedete qui davanti, il segnale video, tutto nero, mi sono ritirato su, l'ho ripreso, poi ho defilato tutto liscio il volo e al ritorno stessa cosa, sempre quella infamissima cima. Mi ha torto il segnale video, ho risalito su, ho ritornato, tanta ansia, tanta adrenalina ma siamo a casa. Grazie a tutti.